Mi scusi signor Cuccia, perché nessuno mai l'ha intervistata? Signor Cuccia, mi scusi, ma vedo che lei è un uomo talmente potente che riesce a far ammino della scorta. Questo significa che il suo potere è talmente grande che lei si considera un vero intoccabile, più del Papa forse? Signor Cuccia, come mai non risponde? Ha paura di compromettersi? Signor Cuccia, mi scusi, mi tolgo una curiosità. Ma lei viene considerato l'uomo più potente d'Italia, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista chiaramente anche politico. Ma lei è veramente così potente oppure lei è la testa di Ponte di Agnelli? Perché non risponde signor Cuccia, scusi? Perché non risponde signor Cuccia, scusi? Conllo! Grazie.